A 28 anni della strage di Capaci, invio un saluto caloroso a tutti i giovani delle scuole coinvolti nel progetto La nave della legalità, che ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e con loro Francesca Morvillo e gli agenti Agostino Catalano, Walter Eddy Cosina, Rocco Di Cillo, Vincenzo Limuli, Emanuele Aloi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina. I due attentati di quel 1992 segnarono il punto più alto della sida della mafia nei confronti dello Stato e colpirono magistrati di grande prestigio e professionalità, che con coraggio e con determinazione gli avevano inferto colpi durissimi, zelando in organizzazione, legami, attività illecite. I mafiosi, nel progettare l'assassino dei due magistrati, non avevano previsto un aspetto decisivo, quel che avrebbe provocato nella società. Nella loro mentalità criminale non avevano previsto che l'insegnamento di Falcone e di Borsellino, il loro esempio, i valori da loro manifestati, sarebbero sopravvissuti rafforzandosi oltre la loro morte, diffondendosi, trasmettendo aspirazioni di libertà dal crimine, radicandosi nella coscienza e nell'affetto delle tante persone oneste. La mafia si è sempre nutrita di complicità e di paura, prosperando nell'ombra. Le figure di Falcone e Borsellino, come tanti altri servitori dello Stato, caduti nella lotta al crimine organizzato, hanno fatto crescere nella società il senso del dovere e dell'impegno per contrasare la mafia e per far luce sulle sue tenebre, infondendo coraggio, suscitando rigetto e indignazione, provocando volontà di giustizia e di legalità. I giovani sono stati tra i primi a comprendere il senso del sacrificio di Falcone e di Borsellino e ne sono divenuti i depositari, in qualche modo anche gli eredi. Dal 1992, anno dopo anno, nuove generazioni di giovani si avvicinano a queste figure esemplari e si appassionano alla loro opera e alla dedizione alla giustizia che hanno manifestato. Cari ragazzi, il significato della vostra partecipazione in questa giornata è il passaggio a voi del loro testimone. Siate fieri del loro esempio e ricordatelo sempre. Grazie. 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 Grazie.